Ciao a tutti, il motivo che vi presento oggi è questo cappellino che possiamo utilizzare naturalmente col pompon, come ho fatto io, l'ho aggiunto, oppure possiamo utilizzarlo anche senza. Potrebbe essere anche un regalo, visto che siamo sotto il periodo di Natale, da appunto regalare ad amici o parenti. Il cappello è semplicissimo da fare, non c'è niente di difficile, ovviamente dobbiamo fare appunto un elastico e delle trecce. Vi farò vedere come appunto alternare queste trecce e poi come fare le diminuzioni ovviamente per la corona del cappello. Andiamo adesso a vedere come si realizza. Allora io in questo caso vi ho già fatto un, diciamo così, disegnino dove potete prendere tutte le misure necessarie per appunto fare questo cappellino. Allora intanto la circonferenza della testa di questo cappellino è di esattamente 56 centimetri, 57, insomma siamo lì. Quindi 56, 57 centimetri. Ovviamente la circonferenza della testa, ok? Ok, questa è praticamente la base. Poi chiaramente voi potete anche decidere di farlo più piccolo o anche più grande. Diciamo che più o meno è la circonferenza della testa di una donna, ecco. Allora si parte con un elastico di due due, quindi due diritti che alternano a due rovesci. Quindi abbiamo un elastico, ve lo faccio vedere qua, ovviamente di due rovesci e due diritti alternati, ok? Questo elastico è di 7 centimetri di altezza, mentre come base dobbiamo montare un numero di maglie che sia pari a 20 centimetri, perché la circonferenza della testa deve essere almeno di 40 centimetri totali, ok? Quindi diciamo che il lavoro finito, cioè da questa parte, noi troviamo 20 centimetri, ma quando montiamo le maglie sul ferro devono essere di 40 centimetri totali, ok? Questo perché? Perché ricordatevi sempre di mettere molte meno maglie rispetto a quelle che realmente dovreste avere, cioè 56 centimetri, perché dovete considerare che il cappello, una volta sulla testa, tende ad allargarsi, ok? Quindi allargate il più possibile per poter arrivare più o meno a 56 centimetri. Quindi vi consiglio di posizionare sul ferro un tot di maglie che sono 40 centimetri totali, ok? Dopo aver fatto ovviamente l'elastico, si prosegue con le trecce. E per fare le trecce ovviamente avremo bisogno di un ferro ausiliario, ovviamente, dove mettere in sospeso le trecce. Vi farò vedere ovviamente come fare queste trecce alternate. E il, diciamo così, il motivo delle trecce è composto da 12 maglie, ok? Quindi le trecce sono formate da 12 maglie, ok? Quindi andate a fare 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, ok? Poi, una volta che noi abbiamo fatto appunto queste trecce, che in altezza, diciamo così, misurano 6 ferri, quindi per 6 ferri, rincominciamo da capo. Quindi 6 ferri e di nuovo altri 6, altri 6 e altri 6, ok? E dobbiamo lavorare per 12 centimetri, ok? Queste trecce. Quindi una volta che arriviamo alle trecce di 12 centimetri, che sono formate le trecce in particolare da 4 maglie, andremo a scalare, quindi a eliminare delle maglie, per andare a formare la nostra corona, cioè la fine, cioè da qui iniziamo a formare la fine del cappello, ok? Quindi gli ultimi 4 centimetri li andiamo a fare per la corona, quindi andiamo ad eliminare delle maglie, finché sul ferro non avremo praticamente un totale di 15 maglie, se non ricordo male. Quindi il cappello in totale, ok, è alto 23 centimetri. Allora, mi sembra di avervi detto praticamente tutto, Adesso partiamo direttamente con il lavorare appunto il cappello. Il cappellino in questione, l'ultima cosa che vi dico, è lavorato con i ferri del 4 per quanto riguarda, diciamo così, l'elastico. Dopodiché parto con i ferri del 4 e mezzo, ok? Quindi più o meno vi potete regolare. Io nel mio caso ho utilizzato una sola matassina di lana, quindi più o meno vi regolate. In genere si utilizza una matassina, almeno io ho utilizzato una matassina da 50 grammi. Se lo volete fare un po' più grande potete anche forse usare una matassina e qualche cosa in più. Poi, come vi ho detto prima, potete decidere di, ovviamente a vostra discrezione, aggiungere un pompon, potete anche lasciarlo senza pompon. In questo caso risulterebbe così. E poi, ovviamente, sempre a vostra discrezione, potete fare l'elastico più sottile, cioè più piccolo, oppure anche più grande e poi lo girate. Quindi è un po' come preferite voi. Ho in mente di fare altri video con altri capellini. Questo, diciamo così, è un esempio classico, diciamo. Poi ve ne farò vedere anche altri. Adesso andiamo direttamente a vedere come si procede nel farlo, appunto. Allora, con i ferri del 4 andiamo a montare sul ferro esattamente 88 maglie, perché il multiplo delle trecce è formato da 12 maglie, quindi andiamo a fare 12 per 7 da 84 più 4 di vivagno, e arriviamo praticamente a 88. Quindi, per prima cosa, vi consiglio di lasciare anche una bella gugliata di filo in modo tale da poter poi andare a cucire. E per prima cosa andiamo a fare l'elastico. Facciamo un elastico 2-2, quindi andiamo a fare due diritti e due rovesci. due diritti e due rovesci. E alterniamo praticamente queste due maglie fino alla fine del ferro, quindi due diritti e due rovesci. Di nuovo, due diritti e due rovesci. Proseguiamo in questo modo fino alla fine del ferro. Il secondo ferro andiamo a lavorare come si presentano le maglie, quindi dove troviamo il rovescio andiamo a lavorare a rovescio, quindi andiamo a fare due rovesci e dove si presentano i diritti e andiamo a fare diritto. Quindi due diritti, di nuovo due rovesci e due diritti. Quindi alterniamo di nuovo queste due maglie, quindi due rovesci e due diritti. Proseguiamo in questo modo fino alla fine del ferro. adesso non dobbiamo far altro che alternare praticamente questi due ferri, quindi due diritti e due rovesci e poi al contrario per esattamente sette centimetri. Quindi proseguite in questo modo fino ad avere un elastico di sette centimetri. Ho proseguito praticamente facendo l'elastico due due per sette centimetri e adesso iniziamo il cappellino vero e proprio. Allora, per prima cosa dobbiamo abbandonare i ferri del 4 per passare, quindi questi non più, per passare ai ferri del 4,5. Ok? Quindi con il ferro del 4,5 iniziamo a fare la treccia e quindi iniziamo a dividere il lavoro in questo modo. Allora, per prima cosa andiamo a fare il vivagno. Vi lascio qui sopra il link che vi riporta al vivagno. Vado a fare quindi un rovescio e una maglia la passo sul ferro di destra senza lavorarla. Dopodiché iniziamo il motivo vero e proprio che da questo momento andrà praticamente ripetuto. Quindi andiamo a fare due rovesci uno e due sei diritti uno due tre quattro cinque e sei queste maglie delimiteranno la nostra treccia. Proseguo con due rovesci e due diritti e due diritti. Ok? Questo è lo schema che andrà ripetuto. Quindi io adesso per agevolare il lavoro vado a mettere un marcatore in modo tale che voi sappiate che questo va ripetuto fino alla fine del ferro. Ne facciamo un altro insieme e poi proseguite da sole e poi proseguite da sole. Quindi due rovesci sei diritti uno due tre quattro cinque e sei due rovesci e due diritti di nuovo marcatore e ricomincio da capo. Quindi proseguite in questo modo fino ovviamente alla fine del ferro. arrivata arrivata praticamente alla fine del ferro vado a lavorare in questo modo. Quindi di nuovo due rovesci sei diritti quindi uno due tre quattro cinque e sei due rovesci e due diritti e ovviamente termino il ferro con il vivagno. Ok? Giro il lavoro ricordatevi di cambiare il ferro quindi torniamo al ferro quattro e mezzo e andiamo a lavorare in questo modo. Vado a fare due rovesci che sono praticamente il vivagno poi due rovesci del motivo due diritti sei rovesci quindi uno due tre quattro cinque e sei e due diritti quindi quindi non faccio altro che andare a fare le maglie come si presentano ripetete questo diciamo schema quindi questo motivo quindi spostiamo il marcatore fino praticamente alla fine del ferro terzo ferro andiamo a fare il vivagno due rovesci sei diritti quindi uno due tre quattro cinque e sei due rovesci e due diritti quindi spostiamo il marker andiamo a ripetere questo motivo ovviamente per tutto il ferro quarto ferro vado a lavorare le maglie come si presentano quindi vado a fare due rovesci che sono il vivagno due rovesci del motivo proseguo con due diritti e poi sei rovesci e ovviamente chiudo con due diritti ripetiamo ovviamente questo motivo ovviamente fino alla fine del ferro quinto ferro andiamo a fare il vivagno due rovesci adesso spostiamo sul ferro ausiliario tre maglie quindi una due e tre le spostiamo sul davanti del lavoro lavoriamo tre diritti quindi uno due e tre riprendiamo riprendiamo le maglie e le spostiamo sul ferro di sinistra e le lavoriamo a diritto quindi una due e tre due rovesci quindi uno e due e due diritti uno e due spostiamo il marker quindi ripetiamo questo schema quindi questo motivo fino fino alla fine del ferro sesto e ultimo ferro andiamo praticamente a fare il rovescio che è il vivagno poi due rovesci due diritti sei rovesci quindi uno due tre quattro cinque e sei e chiudiamo con due diritti quindi andiamo a ripetere questo motivo ovviamente per tutto il ferro adesso non dobbiamo far altro che andare a ripetere praticamente questi sei ferri e ovviamente usciranno tutte le trecce in questi incroci che abbiamo fatto ok quindi proseguiamo in questo modo allora proseguiamo ovviamente fino a circa 19 centimetri considerate che adesso questo andrà un po' più allargato comunque siamo a 19 centimetri circa e iniziamo adesso a eliminare le maglie per poter creare praticamente la corona del cappello quindi una volta terminate praticamente i sei giri di treccia andiamo a fare in questo modo allora il primo giro andiamo a fare praticamente ovviamente sempre il vivagno due rovesci sei diritti tre quattro cinque e sei due rovesci e due diritti proseguiamo per tutto il ferro riproducendo ovviamente questo motivo quindi fino alla fine del ferro il secondo ferro lo andiamo a fare ovviamente in questo modo cioè due maglie a rovescio che sono il vivagno proseguiamo con due rovesci due diritti sei rovesci quindi uno due tre quattro cinque e sei e due diritti ripetiamo questo motivo fino alla fine del ferro il terzo ferro iniziamo ad andare a fare delle diminuzioni quindi eliminiamo praticamente delle maglie e facciamo in questo modo andiamo a fare il vivagno due rovesci e le sei maglie della treccia le andiamo a suddividere in questo modo andiamo a fare una diminuzione semplice quindi spostiamo una maglia senza lavorare sul ferro di destra lavoriamo la seconda a diritto passiamo la prima quindi la cavalliamo sopra la seconda proseguiamo con due diritti e due maglie insieme a diritto due rovesci e due diritti adesso cosa facciamo replichiamo praticamente questo motivo quindi lo facciamo di nuovo insieme due rovesci una diminuzione semplice due diritti due maglie insieme a diritto due rovesci e due diritti quindi proseguiamo in questo modo fino ad arrivare alla fine del ferro allora in pratica ho eliminato appunto delle maglie all'interno della treccia e da quattro maglie che erano ne ho creato scusate da sei maglie che erano ne ho creato quattro ok quindi andremo a fare nel prossimo passaggio cioè il quinto ferro le trecce lavorandole praticamente solo su due maglie e non più su tre quindi giriamo il ferro il quarto ferro non facciamo altro che lavorarlo praticamente semplicemente come si presentano le maglie quindi due rovesci del vivagno andiamo a fare due rovesci del motivo due diritti quattro rovesci quindi uno due tre e quattro e due diritti quindi ripetiamo praticamente questo schema fino alla fine del ferro il quinto ferro andiamo a fare il vivagno due maglie insieme a rovescio quindi andiamo a fare due maglie insieme a rovescio spostiamo due maglie sul ferro ausiliario sul davanti del lavoro lavoriamo due diritti quindi la treccia la stiamo lavorando solo con due spostiamo di nuovo le due maglie sul ferro di sinistra e andiamo a lavorare due diritti di nuovo due maglie insieme a rovescio quindi abbiamo eliminato una maglia da qui e una maglia da qui proseguiamo con due diritti uno e due andiamo adesso a ripetere questo motivo quindi di nuovo due maglie insieme a rovescio sposto due maglie sul ferro ausiliario davanti al lavoro vado a fare due diritti riprendo le maglie le sposto sul ferro di sinistra le lavoro a diritto e di nuovo elimino una maglia quindi due maglie insieme a rovescio e due diritti uno e due proseguite in questo modo fino alla fine del ferro il sesto ferro andiamo a fare le maglie come si presentano quindi lavoriamo due rovesci del vivagno due rovesci del motivo un diritto quattro rovesci quindi uno due tre e quattro e un diritto ripetiamo ovviamente questo motivo per tutto il ferro il settimo ferro andiamo a fare un vivagno un rovescio e adesso continuiamo a diminuire la treccia quindi andiamo a fare un diritto una diminuzione semplice e un diritto un rovescio e due diritti ripetiamo praticamente questo motivo quindi ne facciamo uno insieme andiamo a fare un rovescio un diritto una diminuzione semplice un diritto un rovescio e due diritti continuiamo in questo modo fino alla fine del ferro l'ottavo ferro andiamo a fare le maglie come si presentano quindi i due rovesci del vivagno due rovesci del motivo un diritto tre rovesci quindi uno due e tre e un diritto quindi proseguiamo in questo modo fino alla fine del ferro il nono ferro andiamo a chiudere tutte le maglie e le raccogliamo in questo modo andiamo a fare il vivagno e iniziamo a raccogliere i punti così cioè due maglie insieme a diritto due maglie insieme a diritto due maglie insieme a diritto ovviamente spostiamo il marcatore che non ci serve più quindi due maglie insieme a diritto due maglie insieme a diritto due maglie insieme a diritto e proseguiamo in questo modo fino alla fine del ferro alla fine del ferro mi ritrovo con tre maglie quindi vado a fare un diritto ovviamente il vivagno e giro il lavoro vado a questo punto a fare di nuovo al contrario due maglie insieme a rovescio due maglie insieme a rovescio due maglie insieme a rovescio e così fino alla fine del ferro allora restiamo praticamente sul ferro con 15 maglie lasciamo un bel pezzettino di filo lo tagliamo prendiamo un ago infiliamo ovviamente il filo all'interno dell'ago e andiamo praticamente a passare tutte le maglie dentro l'ago ok in questo modo prendiamo tutto tutte le maglie le passiamo all'interno dell'ago e tiriamo e tiriamo il filo ok quindi il nostro cappellino praticamente è terminato arrivati a questo punto qui abbiamo praticamente un attimino vediamo di darvi qualche siamo arrivati praticamente a circa 23 cm circa 22 23 ok quindi chiudiamo allora e questo è fatto adesso cosa facciamo andiamo verso questa parte dove vi avevo detto di lasciare il filo prendiamo un ago e iniziamo praticamente con una cucitura invisibile a cucire tutto il cappellino fino ad arrivare praticamente alla fine e poi vi faccio vedere come fare una volta cucito il lavoro si presenta in questo modo quindi come vedete abbiamo cucito praticamente tutto il cappellino ed esce in questo modo ora lo potete lasciare in questo modo e quindi decidere di usarlo così oppure potete decidere di applicare un pompon io in questo caso andrò ad applicare un pompon e quindi il lavoro terminato risulterà essere in questo modo così per il momento il video è terminato e ci vediamo alla prossima ciao ciao